ciao benvenuti alla nuova puntata delle fantamagos week news io sono davide di fantamagos milano e con me c'è max di fantamagos monza ciao davide ciao come vedete chi manca che manca qua manca andrea di solito di fantamagos cosa che succederà comparirà in puntata come un ologramma quando usciva la principessa esatto lo evochiamo lo evochiamo lo evochiamo più tardi perché come non so chi ci segue se vive a milano ultimamente milano è un blackout unico cioè abbiamo da i cinque minuti alle sei ore ci sono zone completamente quindi con questo con il caldo ormai milano si accende si spegne come come le luci di natale purtroppo oggi andrea è rimasto completamente al buio è un po di ore questo sembra abbastanza importante quindi non poteva collegarsi quindi ci ha chiamato ma scusate l'unica cosa mi funziona il cellulare ma non posso collegarmi oltre perché sono al buio qui negozi quindi non posso fare niente diciamo che questa è la versione ufficiale mainstream ogni ipotesi di comprotto ovviamente ammessa no no credetici è proprio nata così bene allora partiamo subito con la top five della top selection di di fantamagos allora partiamo dal quinto posto allora settimana scorsa abbiamo visto un gioco di asmodee una una riproposta un gestionale molto famoso che la grande austria hotel al quinto posto al quarto posto invece abbiamo quetzal che è un gioco della liter rocket games dove sostanzialmente un gioco di piazzamento lavoratore con una meccanica in cui si lanciano i mipoli a seconda di quello che esce si trasformano in determinati lavoratori in avventuriero esploratori poi abbiamo il terzo posto sempre dei l'iter rocket games games abbiamo insert coin che è un rolling bright forse una settimana c'è stato one card dungeon sono mi ricordo di questo si sono si sono accorti un po dopo esatto perché la blue selection è composta da cyber doom tower one card dungeon e appunto insert coin che abbiamo nominato adesso al secondo posto un altro gioco gestionare di asmodee che abbiamo visto settimane scorse che si chiama san francisco mentre invece al primo posto si diciamo non riconferma ma si conferma carnival zombie che lo rivediamo però è già un gioco conosciuto sotto altre case editrici invece quest'anno riproposto da cranio creation bene a questo punto procediamo velocemente e vi presento davide di solito ci presenti anche la però totalmente a sorpresa così boom ci presenti anche la fantamagus selection della settimana prossima esatto la fantamagus selection qual è io non so cosa facciamo non so te la tiriamo a caso questa settimana e non so cosa la facciamo così indiretto decidiamo a sentimento cosa 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 possiamo scontare possiamo vediamo vediamo la classifica io cosa potrebbe essere cosa secondo me potrebbe essere quetzal dai piaci dai bello comunque un gioco nuovo un gioco fresco appena arrivato appena entrato in classifica secondo me vale la pena da provare quindi se venite in negozio un bel 15 per cento su un titolo nuovo come quetzal ve lo portate a casa bene a questo punto invece vi introdurrei le novità di questa settimana in realtà nel mio caso vi presento un'intera collezione di giochi abbiamo deciso di inserire nei negozi fantamagus l'intera linea dei prodotti ludic allora i giochi ludic sono questi si faccio vedere l'espositore dei giochi quelli più piccoli poi dopo ne abbiamo anche di più grandi sono persone più grandi qual è la caratteristica senza entrare poi nel dettaglio di ogni singolo gioco perché sono veramente tanti quindi magari vi rimando sul nostro sito www.fantamagus.com la caratteristica di questi giochi che ognuno di loro si basa su una determinata abilità cioè per esempio se io prendo questo gioco ne prendo una caso che si si menia ok e quindi praticamente è un gioco in cui dobbiamo cercare di stimare e avvicinarci più possibile alla misura o piuttosto alla grandezza di determinati oggetti questo caso magari potrebbe essere appunto quanto è lungo il collo della giraffa come vedete di fianco c'è un cuoricino cosa vuol dire il cuoricino sostanzialmente sono delle abilità personali quindi sono quei giochi in cui praticamente dobbiamo mettere un po' a tirar fuori un po le nostre conoscenze ok oppure vediamo ce ne vediamo un altro qua questo che sembra appunto il fumetto la nuvoletta sono quei tutti i giochi linguistici quindi dove sono giochi di parole e quindi diciamo sono si utilizza di più bisogna avere un po più un'abilità appunto il tipo linguistico poi vediamo questo ha occhio ecco qua c'è l'occhio questo è colpi di genio l'occhio invece loro chiamano spaziale diciamo che bisogna usare un pochettino di più il come si chiama il pensiero laterale economia la parola prendiamo fatti e fattaci sarà sicuramente un cuore perché va bene fa parte delle conoscenze un altro cuore ecco qua la lampadina ecco la lampadina invece sono tutti quei giochi logico logico matematici infatti questo gioco si chiama active minds sono 150 sfide allenamente ok dopodiché forse non ho lasciato forse l'ho messo qua perché in questi non c'è vediamo se riesco ad appoggiarlo senza far disastri e sì perché sono un po così precario smimando come vedete è un party game esilarante simbolino la mano quindi sostanzialmente sono tutti quelli quei giochi corporeo cino spaziale vengono considerati in questo caso per esempio si gira una ruota e ci sono un abbinamento quindi magari bisogna mimare due cose contemporaneamente e i giocatori dovranno appunto indovinarne due oppure l'ultimo diciamo genere è quello in cui c'è la foglia cosa può essere la foglia ovviamente sono tutti giochi di tipo naturalistico infatti in questo caso abbiamo missione natura in cui dovremo cercare di salvare gli animali dall'estinzione quindi questi sono i giochi ludic poi in negozio ne abbiamo veramente tanti però quello che dovete capire sostanzialmente sono gli insiemi cioè praticamente i gruppi a cui appartengono i vari giochi quindi se vi piacciono i giochi di parole cercherete quelle con la nuvoletta vi piacciono quelle più di domande dove vi mettete magari la prova sulla storia i fatti indovinare magari un personaggio famoso prenderete coi con il cuore quindi a seconda del gruppo che avete e gioco che volete ovviamente avere nella serata è semplicissimo basta venire in negozio guardate qua di fianco scegliete il simbolino e quello praticamente vi può già dare un'idea del tipo di gioco che porterete a casa bene queste sono le... c'è un'altra cosa secondo me bellissima dei giochini ludic che poi magari fanno vedere uno di qualsiasi che sul retro della scatola hanno un bellissimo quark code e tu praticamente un quadrico cellulare e ti manda un video in italiano brevissimo da un minuto in cui ti fa il tutorial del gioco esatto ci siamo noi e su tutti si e no non siamo noi grazie della ludic di ludic però è molto comodo molto molto comodo c'è modo veramente moderno insomma per imparare il gioco anche prima di comprare se volete vedete il negozio lo sparate e vedete com'è proprio tutto il gameplay bene quindi a questo punto max cosa dice attiviamo l'ologramma di andrea e sentiamo un po cosa andrea ha da dirci per questa settimana lui ci parla delle novità di asmodè bene vediamo vai andrea sì grazie davide qua la luce manca ormai da ore ma sembrano secoli qui in via sapri è tornato tutto il medioevo la gente non si fida più di nessuno ha paura si nascondono non escono regnano incontrastate le tenebre e questo mi aiuterà a parlarvi della ristampa di asmodè attesissima del gioco lupi mannari di rocca scura eccolo qua allora lupi mannari di rocca scura è un party game richiede dagli 8 ai 18 partecipanti richiede circa mezz'ora di tempo ma bisogna vedere perché poi il gioco si potrebbe allungare moltissimo dipende anche dal numero dei partecipanti ed è indicato dai 10 anni in su allora questa è l'ennesima rivisitazione del gioco werewolf mafia di tantissimi anni fa che è stato rivisto e corretto in tantissime versioni noi conosciamo lupus in tabula werewolf e lupi mannari di rocca scura è l'ennesima versione però è molto particolare perché include naturalmente tantissimi personaggi tipici di questa versione e anche le illustrazioni sono veramente molto 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 particolari sono veramente molto astratte ok allora il concetto poi del gioco è sempre il solito ovvero all'inizio della partita tutti i giocatori si siederanno in cerchio diciamo così e ci sarà un giocatore che farà la parte del narratore dovrà scandire le varie fasi di gioco a tutti i giocatori verrà data una carta naturalmente da tenere più segreto possibile e potreste appartenere diciamo a due fazioni la fazione dei lupi mannari e la fazione del villaggio che oltre ai normalissimi membri del villaggio possono contenere tantissime tantissimi personaggi speciali come ad esempio il cacciatore la strega la veggente la ragazzina tutti questi particolari personaggi avranno tantissime abilità legate al gioco e ci aiuteranno eventualmente a venire fuori dalla situazione brutta in cui ci siamo cacciati poiché i lupi mannari avranno lo scopo di divorare tutto il villaggio praticamente e lo faranno durante la notte quando tutti i giocatori avranno gli occhi chiusi loro dovranno indicare una vittima e il narratore poi comunicherà la di partita alla vittima stessa naturalmente i membri del villaggio possono poi una volta risvegliati una volta scoperto che hanno perso un loro membro dovranno accusare qualcuno e mandarlo a rogo diciamo cioè eliminarlo dal gioco sperando di un lupo mannaro e non un altro dei loro membri altrimenti comunque le fila si cominciano decisamente ad assottigliare e come si fa si fa tramite la fase di giorno che è una fase di discussione proprio libera tra i giocatori dove dovranno cercare naturalmente di esporre le loro informazioni se ne hanno tipo per esempio la veggente può indicare una persona e saprà se è un lupo mannaro oppure no ma se si espone raccontando la sua verità e poi sarà un bel problema perché i lupi mannari cercheranno sicuramente di farla fuori la notte successiva e quindi è proprio un'alternanza di notte giorno notte giorno fino a che una delle due fazioni non porterà a casa la vittoria allora io credo che voi conosciate benissimo questo genere di giochi sono stati ne sono stati fatti tanti però intanto vi consiglio di provare lupi mannari di rocca scura perché è molto particolare ha tantissimi personaggi che non si sono mai visti in precedenza in più se avete voglia di provare il gioco insieme a noi potete venire presso i nostri negozi dove avremo alex il nostro dimostratore che ci aiuterà a farvi fare proprio una partita allupi mannari di rocca scura e in questo caso c'è il sabato 2 sabato 2 luglio pomeriggio è ci sarà presso fantamagus monza con max e se invece volete venire da me ci troveremo martedì 5 luglio invece in dalle 20 e 30 in poi in occasione della serata di gioco che io faccio ogni martedì e ogni venerdì avremo alex che ci aiuterà e ci dimostrerà come come si fa ma tutti mascherati naturalmente a sopravvivere ai lupi mannari o forse no dipenderà molto da come andrà al gioco potete naturalmente questa è la ristampa del set base ci sono sia stata ristampata anche la l'espansione nuova luna e anche l'espansione personaggi che naturalmente contengono altre queste contiene naturalmente altri personaggi e c'è anche un'altra piccola modalità di gioco quindi lupi mannari di rocca scura è l'attesissima ristampa da parte di asmode e asmodeci presenta anche un nuovo gioco e che nicola e mario di quelli di quei due sul server che io seguo seguo particolarmente su youtube seguiteli anche voi sono veramente sono veramente top e loro hanno creato questo nuovo gioco che si chiama incipit allora è un gioco che anche questo abbiamo già avuto modo di vedere più o meno perché assomiglia tantissimo a story cubes e praticamente questo gioco contiene 12 dadi con delle su ogni faccia sono rappresentati degli oggetti delle dei concetti delle cose naturalmente come abbiamo già visto effettivamente in story cubes ma i ragazzi hanno hanno dotato questo gioco di un di una di una variante che diciamo ci aiuta moltissimo all'inizio del gioco ovvero il fatto che l'incipit c'è già hanno creato un'applicazione voi potete scaricarla gratuitamente dove troverete effettivamente gli incipit cioè l'inizio della storia il gioco poi si svolgerà così si decide un giocatore che può andare sull'app può cercare naturalmente i vari incipit può cercarne uno che si adatta al gruppo o alla situazione e oppure può tranquillamente crearne anche di vostri potete questa è proprio una è quasi un'app community dove voi potete potete postare nuovi incipit potete votare quelli che sono stati messi dagli altri utenti e potete utilizzare nelle vostre partite voi partite con questo incipit diciamo con l'inizio della storia poi parte un giocatore tira un dado sceglierà un dado diciamo casuale oppure lo sceglierà tra i 12 nella confezione lo lancerà e poi dovrà farsi ispirare naturalmente dal risultato del dado per continuare la storia e quindi questo è diciamo un gioco votato al divertimento il è un altro party game si gioca infatti da uno o più anche perché effettivamente l'ultimo giocatore quello che tirerà l'ultimo dado concluderà la storia ma non siete non siete obbligati a fermarvi lì potete ricominciare potete ripartire con un altro incipit potete coinvolgere altre persone è veramente un gioco di narrazione simpaticissimo che vi toglie diciamo la parte più spinosa della questione ovvero il fatto di iniziare avete già l'inizio pronto e vi ricordo che comunque di andare a vedere i ragazzi su quei due sul server che è veramente un canale che seguo molto e top e andate a vedere perché loro hanno fatto un esempio molto simpatico della maga vittoria io riso molto guardandolo quindi andate anche voi e bellissimo questo è un altro un altro gioco quindi diciamo che questa questa settimana le novità smodessi sono due questi due party game veniteci a trovare per per vedere lupi manali di rocca scura e venite naturalmente anche a trovarci per invece vedere e poter acquistare incipit io intanto passo la parola max e torno nel mio fantastico medioevo addio a tutti beh mi sembra interessante comunque anche l'evento che tu e andrea dovete fare per questo evento su rupi manali molto molto divertente e poi è tornato molto di moda ho visto che ci fanno addirittura delle serate su twitch ah sì questo non sapevo sì 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 ci sono gli streamer su twitch che fanno delle serate a tema rupi manali ci giocano in compagnia invitano gli amici no fanno tutta la serata in cui cercano di scoprire chi si nasconde ma quante cose guardi tu mi tengo aggiornato come come i giovani capito anche su twitch oramai cioè bisogna seguire queste nuove trend perché altrimenti però no è tornato molto di moda ed è vabbè un grande classico alla fine rupi manali questa versione qua rupi manali di rocca scura è molto carino perché dentro tutti i tipi di personaggi cose un po' più particolari rispetto al rupus basic diciamo la versione più più basic certo interessante sì 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 quindi venite vi aspettiamo ai nostri eventi in negozio così lo provate e avrete accesso appunto a super promozione eh per chi appunto partecipa all'evento eh sul gioco ok ma hai visto di eh ho visto l'altro giorno su online no vi hai visto io parlavi di twitch così c'era uno youtuber che adesso non conosco il nome che stava facendo una diretta in duomo e gli hanno rubato lo zaino mentre stava facendo la diretta ed è rimane e dentro nella diretta si vede il tipo che che gli ruba le cose che scappa con adesso sono bellissimo e oramai siamo avanti quindi questo l'abbia battuto e tutto il fatto di realismo ma in realtà ci sono stati anche streamer online che facevano vedere mentre loro stessi compivano dei reati e poi si meravigliava che gli arrivava la polizia giustamente ad arrestarli in effetti chissà come mai poi si è arrivato cioè non ho eh vero 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 eh incredibile incredibile beh in effetti anche nel passato insomma chi commetteva reati insomma faceva di tutto per farsi vedere eh sì dei geli incredibile non neanche lo fai di nascosto in diretta streaming no? e poi ti meravigli che ti... vabbè eh... diciamo che non tutti gli streamer sono proprio il massimo della genialità però però ci sono dei bei programmi anche su twitch veramente per esempio questo qua su... ehm... su rupus in tabula ci sono... sui giochi da tavolo ancora non tanto però ci sono tantissimi streamer che si dedicano per esempio a streamare delle partite di giochi di ruolo quindi vanno moltissimo su... sui giochi di ruolo vanno moltissimo è una roba nata in America sostanzialmente però nell'ultimo nell'ultimo periodo lo stanno facendo molti gruppi in italiano che sono sicuramente molto più facili da seguire beh ma anche perché poi ci sta perché comunque il gioco di ruolo è narrativo quindi comunque ascolti la storia quindi ci sta il gioco di ruolo si presta ok allora io chiuderei la puntata parlandovi di due novità che arrivano distribuite da Raven ok allora la prima è proprio un gioco edito da Raven che si chiama in italiano ovviamente che si chiama Ex Libris ed è praticamente un... un gioco che va da uno a quattro giocatori durata della partita sui 45 minuti circa ed è un gioco un po' particolare allora l'idea del gioco è quella di cercare di mettere praticamente sistemare la nostra libreria di libri appunto ci saranno delle carte che rappresenteranno appunto questi libri i libri dobbiamo cercare di ordinarli in ordine alfabetico ok il più possibile quindi dobbiamo inserire nella nostra... creare la nostra libreria giocando queste carte che rappresentano questi libri in un ordine corretto ma l'importante è iniziare a giocare perché perché? perché poi una volta giocate le carte le potremo spostare mediante l'utilizzo di azioni ecco queste azioni si trovano invece sulla prancia cioè una prancia fatta di alcune carte dove noi potremmo andare ad inserire i nostri... praticamente selezionare le nostre azioni tramite i nostri lavoratori sostanzialmente le azioni sono delle più varie alcuni ci permetteranno di spostare una carta da sopra sotto scattare carte degli avversari prendere carte dagli altri guardare, girare... insomma ci permette di fare azioni delle più varie la cosa carina è poi che il gioco ha una regia a simmetria perché ogni giocatore praticamente all'inizio sceglierà un proprio personaggio che ha accesso a un Mipol speciale ecco nella confezione è pieno di Mipol tutti diversi uno dall'altro e a seconda del Mipol che hai puoi compiere delle azioni particolari non so per esempio se c'hai il Mipolino speciale del Romino di Neve quando tu lo piazzi nessuno può piazzare... praticamente selezionare la stessa azione del Romino di Neve perché lui è troppo freddo e quindi nessuno gli vuole stare vicino oppure c'hai tipo il Sasquatch che è timido lo sanno tutti che il Sasquatch è timido non si fa vedere dagli altri quindi quando uno praticamente piazza il suo Mipolino di fianco al tuo Sasquatch il tuo Sasquatch lo puoi riprendere e quindi ce l'hai di nuovo a disposizione e puoi fare un'azione in più sostanzialmente quindi hai una serie di vantaggi a seconda di come vengono usati questi Mipol speciali il gioco sostanzialmente è questo hai tanti modi di fare punti una volta che hai finito di sistemare la tua libreria eccetera conterai i punti a seconda del se sei riuscito a mettere in ordine perché tutti i libri, le tessere diciamo che non sono in ordine alfabetico le dovrai girare la faccia in giù e quindi perderai i libri sostanzialmente poi sopra gli scaffali ci sono dei simboli quindi il giocatore che ha correzionato più simboli di un certo tipo e quindi più libri di un certo tipo farà punti e poi conterai anche proprio come hai creato la libreria quindi diciamo devi riuscire a fare un quadrato il più grande possibile un rettangolo scusatemi in realtà un rettangolo il più grande possibile perché hai tre diciamo tre scaffali su cui appoggiare i tuoi libri insomma tutta una metodologia per fare punti davvero varia questo è il gioco sostanzialmente a me sembra un po' un bell family fondamentalmente a tema libresco e divertente hai diversi modi per far girare la tua libreria i titoli dei libri sono buffi ovviamente ispirati al nostro mondo al mondo del gioco e della letteratura fantastica quindi secondo me è anche molto carino insomma ok il secondo gioco invece è un gioco che distribuisce Raven è un gioco tra l'altro di un autore italiano Paolo Carraro e si intitola Belle Epoque ed è in questo caso invece un gioco sicuramente non più di tipo family ma per giocatori diciamo per così dire di giocatori esperti ok è un gioco che va da uno a quattro giocatori competitivo partita dai 90 ai 180 minuti ma insomma tre ore secondo me sono assolutamente credibili per questo tipo di gioco fondamentalmente ogni giocatore controllerà una delle quattro grandi potenze dell'epoca delle belle epoche europea quindi Inghilterra, Francia, imperi centrali che quindi mette un po' insieme Germania e Austria sostanzialmente e Russia queste sono le quattro grandi potenze bisogna sempre avere tutte e quattro in gioco per cui o si gioca in quattro o i giocatori se le possono dividere tra di loro quindi un giocatore ne può controllare più di una oppure c'è un meccanismo di bot che permetterà a tutte le potenze comunque di essere sempre in gioco e queste potenze ovviamente competono tra di loro durante il periodo della Belle Epoque che arriva fino alla prima guerra mondiale ok infatti il gioco a fine nella terza era praticamente il gioco è anche diviso in fasi nere finisce nella terza era quando esce la carta dell'assassinio dell'Arciduca Ferdinando a Sarajevo lì scoppia la prima guerra mondiale e finisce il periodo storico in realtà incomincia uno nuovo e quindi a termine si conteranno i punti i giocatori hanno una prancia personale della propria fazione diciamo della propria grande potenza poi ci sono prance che rappresentano il terreno di sconto dell'Europa ma anche quello dell'Africa, dell'Oriente, dell'Asia eccetera perché ovviamente i giocatori si contendono anche diciamo l'influenza sulle colonie c'è tutto il tema del colonialismo che era proprio tipico insomma dell'Ottocento europeo e quindi c'è molto anche di quello è fondamentalmente un wargame storico ambientato nell'Ottocento che funziona con meccanismi per lo più di maggioranza ok? Niente dadi, c'è un meccanismo di maggioranza per risolvere i conflitti, le potenze hanno una certa simmetria comunque ovviamente come è logico in questi giochi c'è molta profondità sugli eventi eccetera ci sono praticamente carte eventi imprevisti eccetera di promazia che verranno estratte un po' a caso e che sicuramente randomizzeranno la partita e ci richiederanno di adattare la nostra strategia alle pescate che faremo che quindi diciamo la parte aleatoria insomma del gioco è sicuramente data più che altro dalla pesca di queste carte che troveremo nel gioco ok è un gioco per appassionati di giochi a tema storico di wargame c'è poco altro da dire è un gioco sicuramente impegnativo la grafica è abbastanza minima oserei dire insomma non aspettatevi niente di... cioè è abbastanza mappe, Europa, mondo, cubetti tutto molto schematico, tutto molto abbastanza da wargame un po' vecchia scuola ecco diciamo così no? ok quindi è un gioco per appassionati sicuramente di questo genere per cui Belle Epoque distribuito da Raven gioco di Paolo Carraro interessante per gli appassionati di giochi storici ok questo era tutto per questa settimana direi che possiamo chiudere qua l'appuntamento rimane come al solito lunedì con le Fantamagus Week News ovviamente le trovate quando volete recuperarle sul canale YouTube Fantamagus trovate le schede dei prodotti sul nostro sito internet www.fantamagus.com noi vi aspettiamo in negozio per venirci a trovare partecipare anche agli eventi in questo periodo che si può tornare a farlo e vi rimandiamo quindi alla prossima settimana se avete domande fatele pure qua sotto nei commenti un saluto a Davide ciao Max grazie e un pensiero ad Andrea che non è qua che l'ha il buio poverino esatto ciao a tutti ciao 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 ciao